Seconda parte stavo dicendo se ho interrotto il video Se Icardi quindi migliora da quel punto di vista Viene a giocare di più palla con la squadra Poi ovviamente non chiede a entrambe le punte di scendere a giocare palla Ma comunque devono chiamare il pressing, devono essere alte Potremmo avere veramente una coppia d'attacco mostruosa Dietro a questi due giocatori Colui che deve servire l'ultimo passaggio a questi due E James Rodriguez Dietro un centrocampo che ho detto di essere formato da Fabian Ruizalla Nezelinski, diciamo che ci sarebbe il problema Che non hai il regista, non hai chi ha i compiti di regia Anche se comunque Ancelotti ha gestito la squadra Senza un regista tutta la stagione si giocava a due, è vero E' tutta un'altra cosa, giocare a due rispetto a giocare a tre A due non ti serve il regista, più o meno A tre invece è fondamentale Però comunque magari Ancelotti ha già l'idea Che Fabian Ruiz può avere dei compiti di regia O Zielinski che gli ha fatto fare i tutti i campisti a entrambi Visto che comunque in difesa c'è Colibali che bene o male Qualcosina può fare in fase di impostazione Poi Meret e Manolas assolutamente no Gulama anche probabilmente può fare qualcosa Di Lorenzo non lo conosco da quel punto di vista Ames mi sembrava uno dell'ultimo passaggio E Icardi e Milk non possono essere i registi perché sono le due punte che devono finalizzare E quindi detto questo non so se Ancelotti è in mente comunque un centrocampista Queste sono tutte ipotesi di un centrocampo a tre Io spero che non si riparti dal centrocampo a due con i due esterni I due esterni che possono essere veri falsi non mi interessa Ma a due veramente il Napoli non deve ripartire Perché se riparte con un centrocampo a quattro ovviamente ha un attacco a due E quindi poi Ames Rodriguez, Zielinski, Fabian Ruiz Tutti questi giocatori dove li collocheresti Avresti poi difficoltà perché poi c'è anche Caglieon Che io adatterei a centrocampo Però una cosa è alternare Caglieon con le due mezze ali E quindi comunque avere tre giocatori per due ruoli Un'altra è avere comunque Caglieon che deve andare a sostituire Ames Rodriguez Zielinski, Fabian Ruiz E hai quattro giocatori per due ruoli Uno poi Ames Rodriguez che penso che se dovesse arrivare difficilmente verrà tolto Gli altri due sono Fabian Ruiz e Zielinski Che già tenerne uno in panchina è una bestemmia E visto che è mediano non vedo nessuno dei due Potrebbe arrivare vere tu al massimo Quindi sarebbe una situazione complicata per me Anche se ora si parla di sirene cinesi per Caglieon Ma non penso E quindi parliamo di Ames Rodriguez Due parole su Ames Rodriguez Dopo il tweet del Napoli Di un treno per Yuma Tanto qui passa Valentino Rossi Di un treno per Yuma In cui tutti i tifosi ovviamente stanno facendo indiscrizioni su Arriva Ames, è il bandito Quel film parla di un bandito Quindi è il bandito Ames Rodriguez Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Boom! Arrivano le voci dell'Atletico Madrid Francamente lancio una mia idea Secondo me Ames Rodriguez è del Napoli Rivedo un po' la situazione di Manolas Sembrava tutto fatto Sembrava trovato l'accordo con la società Col calciatore Erano uscite tutte le notizie dappertutto Che Ames Rodriguez era un passo C'era stato il tweet del Napoli Come c'era stata la dichiarazione di De Laurenti Scolibali e Manolas sarebbero una grande coppia E' arrivata, diciamo, questo tweet Questa locandina Della Colombia Pictures Quello è colombiano Quindi ci sono tutti questi richiami E poi Arriva l'Atletico Madrid Come lì con Manolas Arrivò la frenata Perché Rayo la voleva di più Perché la Roma non te lo voleva vendere Perché aveva dove Stava per vendere il Sharawin Della Plus Valenza L'avrebbe già fatta Quindi io dico Che secondo me Ci metto la faccia Ma non mi interessa Ames Rodriguez E' un giocatore del Napoli per me Non ho fonti Non ho nulla Perché che fonti devo avere Secondo me E' una mia idea Vedo un parallelismo Con la situazione Manolas Quindi Speriamo che il Napoli Non faccia un gran mercato Che arrivi Ames Rodriguez Ma non solo Che arrivi poi il sostituto di Mario Rui Io spero che sia Fares Io spero sia Grimaldo Però Non penso che il Napoli Investa 30 milioni E passa per un terzino Quindi spero Fares O quel giocatore del Celtic Anche se 28 milioni Sono un'esagerazione E spero che a centrocampo Arrivi un giovane Tipo Elmas E poi vere tu Se proprio deve arrivare Un regista Sacrifico Allan E In attacco Ames Rodriguez Cioè sulla tre quarti Ames Rodriguez E poi dipenderà tutto Da Insigne Se Insigne partirà Allora Icardi E un pensierino Anche a Lozano Come seconda punta Da qui è tutto Iscrivetevi Se vi va Lasciate un commento E ditemi che ne pensate Se vi è piaciuto Mentre ti mi piace Allora Icardi